Hi! Benvenuti alla nostra nuova lezione d'inglese. Oggi parliamo del genitivo sassone. Il genitivo sassone serve per esprimere un possesso e corrisponde al complemento di specificazione italiano, cioè alla domanda di chi. Vediamo alcuni esempi in italiano e in inglese. In italiano, il libro di mio fratello, la macchina nuova di Sara. In inglese, il genitivo sassone si rende con possessore più apostrofo s più cosa posseduta. Ad esempio, il libro di mio fratello, my brother's book, la macchina nuova di Sara, Sara's new car. Come abbiamo visto, in inglese prima si mette sempre il possessore, l'apostrofo s e poi la cosa posseduta. Quindi, my brother, possessore, apostrofo s, book, cosa posseduta. Facciamo altri esempi. La sorella di Paola, Paola's sister. Gli amici di Antonio, Antonio's friends. Quando una parola o un nome terminano con s, per formare il genitivo sassone, la s non si aggiunge, ma si utilizza solo l'apostrofo. Ad esempio, Quando i possessori sono più di uno, l'apostrofo s si aggiunge solo all'ultimo possessore. Ad esempio, Come si dice in inglese di chi? Si traduce whose. Di chi è questa macchina? È di Claire. Whose car is this? It's Claire's. Di chi è questa sciarpa? È di Mark. Whose scarf is this? It's Mark's. Come possiamo notare, dopo l'apostrofo s non abbiamo ripetuto né car né scarf, perché quando un qualcosa è stato menzionato in precedenza o è evidente dal contesto non è necessario ripeterlo. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale. Alla prossima. Bye!